Sull'inchiesta degli appalti della Regione Abruzzo il riesame decide sull'istanza di Ruffini. Il Tribunale del riesame dell'Aquila infatti si è riservato una decisione in merito al ricorso presentato dall'Avvocato Gennaro Lettieri in rappresentanza del Capo della Segreteria del Governatore D'Alfonso ed ex Consigliere del Partito Democratico Claudio Ruffini. Claudio Ruffini, lo ricordiamo, è uno dei 32 indagati nell'ambito della max inchiesta della Procura dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla Regione Abruzzo. L'Avvocato di Ruffini, secondo quanto si è appreso, ha presentato tra le altre cose anche un'eccezione tecnica legata alla proroga delle indagini che sarebbero state notificate in ritardo. Claudio Ruffini è coinvolto nel filone legato al contributo pubblico per un'iniziativa immobiliare a Giulianova con le positi di reato in concorso con altri di corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio e stigazione alla corruzione. Ad annunciare il ricorso al riesame sono stati gli avvocati Massimo Costantini e Roberto Madama che assistono Eugenio Rosa, titolare dell'impresa Edile, Icet di Castelli e Teramo, indagato nel filone sulla ricostruzione post-terremoto della sede centrale aquilana dell'Aggiunta regionale, vale a dire Palazzo Centi. I ricorsi erano stati presentati contro la perquisizione e il sequestro disposti dal PM del capoluogo nei confronti di alcuni indagati. Obiettivo dei legali è conoscere le carte iniziali dell'indagine ed avere la restituzione delle carte sequestrate. Intanto le indagini vanno avanti, anche se al momento non ci sono altri interrogatori che sono stati messi in agenda. Lo ricordiamo che tra 32 intagati, 9 fronti investigativi attualmente aperti, ci sono dirigenti e funzionali regionali, professionisti esterni, imprenditori, oltre al presidente della regione Luciano D'Alfonso e assessori regionali Marilena Sclocco, Silvio Paolucce e Dino Pepe. Le ipotesi di accusi a vario titolo sono di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico, abuso d'ufficio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Michele Renzo e dal sostituto Antonietta Picardi e sono portate avanti dai carabinieri del NO e dalla squadra mobile della Questura di Pescara.